ciao sono enrico luciogli e sto girando questo breve video per informarti che è uscita la seconda edizione del libro la difesa personale non funziona questo giro è ancora più grossa siamo arrivati a 422 pagine senza aggiungere nessuna figura quindi ci sono ancora più contenuti rispetto all'edizione precedente è un libro che ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno se vuoi diventare un esperto di difesa personale ci sono nel primo capitolo le informazioni che ti servono per riconoscere i corsi truffa nel secondo capitolo trovi quello che ti serve sapere per trovare un buon insegnante dove vivi tu nel terzo capitolo ci occupiamo di tecniche fisiologia e biomeccanica per capire cosa funziona davvero e cosa ha senso allenare all'interno della difesa personale nel quarto capitolo parliamo della preparazione fisica nel quinto di quella mentale e nel sesto di strategia parliamo anche di giurisprudenza e quindi ti spiego come è meglio che tu organizzi la tua difesa personale se non vuoi poi avere delle conseguenze spiacevoli dal punto di vista penale o economico e infine nel capitolo 7 tiriamo le conclusioni oltre a tutto ciò ci sono anche dei contenuti audio gratuiti a cui puoi accedere e sempre attraverso questi link puoi fare delle domande se qualcosa non ti è chiaro mi auguro quindi che tu sia una di quelle persone che è disposta a investire su se stesso sulla sua cultura per cercare di migliorare qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno non solo nell'ambito difesa personale ma in generale anche nella crescita personale proprio perché il libro ti dà degli elementi per essere migliore dal punto di vista fisico mentale e strategico se hai già acquistato la prima edizione del libro non preoccuparti ho pensato anche a te attraverso la mail che hai inserito per scaricare il contenuto audio gratuito avrai a disposizione un nuovo contenuto audio all'interno del quale ti spiego cosa contengono le 50 pagine in più della seconda edizione se invece non hai ancora scaricato i contenuti gratuiti non ti preoccupare perché comunque quando inserirai la mail nell'apposito link riceverai sia i vecchi file audio che questo nuovo file che integra le nuove 50 pagine della seconda edizione non 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 Grazie.